Siamo a Milano in occasione di un incontro che ha fatto il punto sul dolore quotidiano. In questa occasione parliamo della gestione del dolore cronico osteoarticolare con il professor Adami dell'Università di Verona. Professor Adami, con quali strategie terapeutiche viene gestito il dolore cronico osteoarticolare? Di fronte a un paziente che lamenta un dolore osteoarticolare, un dolore ginocchio, le anche alla colonna, il primo problema è quello di individuare la causa. Nella storiale maggioranza dei casi si tratta di un banale problema degenerativo, la cosiddetta artrosi. Quando si è individuata la causa di questa condizione, il primo approccio terapeutico, quello che deve precedere a qualsiasi altro, è quello di correggere le proprie abitudini di vita. Il più delle volte si tratta di correggere la postura per determinate attività lavorative, incoraggiare un'attività fisica corretta, il promuovere alcuni tipi di esercizi che servono a salvaguardare l'articolazione. Questi interventi sono la premessa di qualsiasi approccio. Tuttavia, in alcuni casi, questo non basta, il paziente deve far fronte al dolore per la sua attività, per la sua qualità di vita e allora dobbiamo intervenire con i farmaci. Quali farmaci abbiamo a disposizione per questi pazienti? In generale, i farmaci che vengono utilizzati sono i cosiddetti antidolorifici. Ci sono due categorie di antidolorifici. Quelli antidolorifici puri, quelli che escono esclusivamente sul dolore, senza influenzare minimamente l'infiammazione, e i cosiddetti antinfiammatori che hanno una forte attività antidolorifica. I limiti degli antinfiammatori tradizionali sono ben noti alla popolazione. Sono farmaci fantastici, hanno un'emivita di solito, un'efficacia abbastanza limitata nel tempo, però sono gravati da importanti effetti collaterali. Molte persone non possono neanche tollerare in minime quantità senza lamentare l'importante dolore dello stomaco. Il passo avanti, negli anni 90, è stata poi l'introduzione dei coxib. Cosa sono questi farmaci? Si è capito che noi per bloccare l'infiammazione danneggiavamo lo stomaco. Si è potuto distinguere, separare questi due effetti. I coxib fanno esattamente questo. Possono agire sull'infiammazione e sul dolore senza intaccare l'effetto, le prostagrandine prodotte nello stomaco, sono quelle che proteggono lo stomaco stesso. Quindi conservano tutte le caratteristiche degli antinfiammatori senza essere gravati dal danno allo stomaco. Quali molecole appartenenti alla classe dei coxib abbiamo a disposizione? Bene, alcuni sono stati, a dire il vero, erano partiti bene e poi erano stati ritirati per una serie di problemi. Il sopravvissuto per eccellenza è l'etorococib, che ormai è usato da moltissimi anni, si è affermato. È una molecola che ha, accanto alle caratteristiche tipiche degli anticoxib, cioè essere selettivo sull'infiammazione e sul dolore, ha anche il vantaggio di avere una vita molto lunga che consente, usato il bisogno, di poter controllare il dolore per esempio per 24 ore, che è una prerogativa non condivisa da molti altri antinfiammatori che devono essere presi invece in dosi ripetute nella giornata. Professore, per finire, un messaggio per i pazienti che soffrono di dolore cronico osteoarticolare? Il primo messaggio è quello che il farmaco deve essere l'ultima razza, quando ce n'è bisogno, usarlo è bisogno, non abusarne, avendo anche coscienza che oggi è possibile controllare il dolore in maniera efficace senza correre particolari rischi se si seguono queste precauzioni. Grazie.